Mario ha fatto le valigie. Posso andare fuori, Maria? Non vuoi ballare con me? Eh, ma poi parte, perché si ha fatto già la valigia che ci mette a stare in macchina, andando alla sezione. Poi balliamo. Poi balliamo? Sì. Ma secondo me, quando avrò è dopo, faccici fare le valigie e poi balli con me. Mi sento adesso di parlare con lui. Ha capito che sta partendo. Anzi, sbriga di lui. Allio! No, mi sento di adesso andare a parlare con Mario. Secondo me stai rovinando però un piccolo... Perché sto rovinando? Cos'è che sto rovinando? Vai, vai, ti aspetto là io. No, ti aspetto sulla sedia lì. Vai a prendere prima male e poi... Non so se ce lo ritrovi pure questo. No, 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 mi sto... Tranquillo, ma ti aspetto là, eh. Non ti voglio mettere di fronte a un bivio già. Attenzione, tu hai ancora tutto il tempo da fare, però... Reputo che ora, se stai con me, goditi il tempo con me, capito? Vabbè... Poi te le risolvi successivamente le altre cose due. Perché giustamente tu hai fatto venire lui qui. Devi dare anche un senso a questo che fa. Allora, Pierpaolo, io l'ho accettato di ritrovare quello che avevo inizialmente la mia conoscenza con Mario. Lo faccio tornare, lo faccio tornare per un motivo, no? Scusa, ti ricordo che ho già fatto la valigia, non perdere altro tempo. Non è vero, non è da me. Grazie. 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 Grazie.